Fara in Sabina Fara in Sabina è un borgo di origini medievali arroccato su Colle Puzio, situato tra i Monti Sabini e la Valle del Tevere, in provincia di Rieti. Notizie dell'abitato si hanno solo intorno all'anno 1000, quando il nobile Leo da Fara sottoscrive un atto dell'abbazia di Farfa. A partire dal XII secolo si afferma un'aristocrazia locale che costruisce case e torri ancora presenti nel tessuto urbanistico della città. Il gioiello di Fara Sabina è il suo centro storico, un delizioso ricco scrigno che ha, conservato nonostante l'inesorabile trascorrere le secoli, angoli pittoreschi e alquanto caratteristici. Eretto nel XVII secolo e sulle rovine del suo castello, c'è il monastero delle Clarisse e Remite. Oltrepassato il cancello d'ingresso si ha subito la sensazione di entrare all'interno di un luogo incantato, dove sembra che il tempo si sia fermato. La pace e la bellezza di natura circostante vengono fortemente collegate alla volontà di dare vita ad uno spazio nel quale vige la carità fratella.